C'era una volta una principessa che viveva nel mare, anzi in Cina e anche in Arabia, con tre fatine o forse sette nanetti. Era davvero bellissima e dopo aver ballato perse una scarpetta, mangiò una mela avvelenata, baciò un mostro, ma alla fine sposò un bel principe e vissero per sempre felici e contenti. Ci sarà una volta, una sola volta, un unico canale dove tutte queste principesse potranno stare insieme. Sky Cinema Principesse da venerdì 3 sul canale 304. Grazie a tutti.